E' un piacere essere qui per l'inaugurazione di questo negozio, di questo punto, Blackjack 21, un'azienda della quale sono testimonia ormai da tre anni e con la quale collaboro in maniera straordinaria perché è un'azienda fatta di persone che si sacrificano, persone che si impegnano, persone che si dedicano al lavoro e che fanno un prodotto ottimo e che io ho l'onore di pubblicizzare. Oggi Vito, Michele e Concetto hanno voluto fortemente che io fossi qui per l'inaugurazione di questo punto. Io gli auguro che questo negozio possa avere il successo sperato con Blackjack 21 perché è l'azienda in questo momento leader per quanto riguarda il suo settore dell'abbigliamento.